Allora, siccome nel ristorante abbiamo già mangiato, oggi abbiamo deciso di cucinare a casa, quindi facciamo la pasta qui a Yashi e quello che ci serve sono le farfalle, la panna, il vino, un buon vino, vediamo quanto costa qui, quanto è buono, perché comunque è di buono e sappiamo che già è buono, e poi ci servono anche i funghi, vediamo. Facciamo prendere questo? Allora, in lei sarebbero 19,30 in euro, facciamo una somma di 3 euro. Per l'aperitivo invece abbiamo pensato di prendere una bella birra fresca e quindi prendiamo l'aperone. Peccato che non c'è l'Icnusa, l'Icnusa. Come prendiamo anche questa? Mi hanno detto che è buona. Ne prendiamo due vasi? Sì, per tutti. Avete anche voi voglia di fare un bel piatto di pasta italiano qui a Yashi, potete prendere le farfalle oppure qualsiasi pasta che volete. Comunque il prezzo è 5 lei che sarebbe 1 euro 80 centesimi, quindi farfalle. Allora, la spesa è già fatta. Abbiamo qui tutto quello che abbiamo comprato e cosa pensate? Abbiamo comprato per 10 persone e abbiamo speso solo 35 euro. Sono 178 lei che sarebbero 35 euro, quindi andiamo a cucinare. Noi siamo arrivati a casa e abbiamo deciso di fare una sorpresa ai nostri che sta per arrivare più o meno tra un'oretta e mezza. Siamo andati un po' oltre con le preparazioni con vasi, però noi siamo un po' professionali, diciamo. Cosa vogliamo fare? Vogliamo fare la pasta coi funghi e poi vasi ha deciso di fare lui proprio in persona una grigliata tradizionale moldava. Quindi oggi prepariamo tutte e due. Procediamo. Cipolla tagliata, funghi lavati, ma per questo piatto superior ci serve anche un'altra persona qui vicino a me che mi aiuti a tagliare la carne. Quindi vasi, il posto è tuo! Allora, il nostro tavolo è pronto! Abbiamo di tutto e di più e i nostri ospiti sono già arrivati, quindi se magna! Ciao! Ciao!